Sono stati consegnati ieri mattini i lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Africo. L'intervento di messa in sicurezza delle vie e delle piazze sarà eseguito dall'impresa Comitel di La Mezza Terme per un importo di circa 126 mila Euro finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno e del Bilancio Comunale. I lavori devono essere ultimati entro gennaio 2023. Il progetto prevede un sistema di videocontrollo centralizzato cablato da una rete wireless nella quale transiteranno le immagini delle telecamere posizionate nei luoghi prescelti per consentire una copertura più possibile ampia. Il sistema di videosorveglianza tra l'altro offrirà anche la visione e la gestione delle immagini alla locale stazione dei Carabinieri. Ai lavori di consegna dell'intervento erano presenti ieri mattina il sindaco Domenico Modaffari e il suo vice Santoro Criaco come amministrazione, ha affermato il sindaco di Africa Modaffari, siamo soddisfatti per aver dato corso al progetto che ci permette di mettere in sicurezza alcune zone che necessitavano di maggiori controlli. Con questo intervento assicuriamo maggiore sicurezza ai cittadini del nostro Paese.